E' stato ricordato a Pescara Geppino Micheletti, il medico estriano, medaglia d'argento al valore civile, una figura eroica ancora poco nota che ricorda tutta la tragedia della popolazione italiana Giuliano Dalmata. Alberto Tundo. Micheletti in sé è un'icona essenzialmente di quelle che sono le sofferenze della seconda guerra mondiale. Basti pensare che lui si chiamava Michael Statter, aveva un cognome austriaco tedesco, era ebreo, il padre era ebreo, quindi lui subisce le leggi razziali, è costretto a cambiare cognome e poi fa il medico militare, lui è impiegato in Dalmazia, in un ospedale da campo e quando poi rientra, finita la guerra, subisce la perdita dei figli, della sorella e del cognato in questo attentato drammatico che è Vergarolla, che possiamo intendere come la prima strage dell'Italia repubblicana. Nella strage di Vergarolla, provocata dall'esplosione di 800 kg di materiale bellico nei pressi dell'affollatissima spiaggia di Pola, oltre 100 vittime, Micheletti perse due figli, di uno non restò nulla, dell'altro solo una scarpa e un calzino, ma per lui in quel maledetto 18 agosto del 1946 non ci fu nemmeno il tempo di piangere perché scelse di continuare a operare i corpi martoriati dei feriti per due giorni di seguito. Una storia unica e drammatica quella di questo medico estriano ricordato solennemente dalla AS di Pescara, che parte della tragedia del popolo Giuliano Dalmata, stanziato in una terra che dopo la fine della seconda guerra mondiale sarebbe passata alla Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia e quindi costretto all'esodo. Sulla strage di Vergarolla non c'era una verità storica definitiva, ma sospetti fondati e pesanti. Le autorità inglesi alleate del tempo fecero delle indagini, non arrivarono ad appurare nulla se non che gli ordigni che erano privi di detonatore erano stati nuovamente riarmati e c'è un forte sospetto che la OSRA, che era la polizia politica jugoslava del tempo, abbia avuto un ruolo in questa vicenda che però ancora oggi non è stata completamente provata.